di qua c'è il comune di Pescara e questa è la strada parco da via Livenza e via Arno in su cioè di qua c'è il comune di Montesilvano e questa è sempre la strada parco ma appunto nella tratta di competenza di Montesilvano c'è un confine preciso fra il gratis e il si paga confine che nel caso di Pescara e Montesilvano non è solo territoriale ma anche economico ecco quella che vedete è una curiosa esperienza che possono vivere gli automobilisti che sono intenzionati a parcheggiare sulla strada parco curiosa esperienza perché perché la strada parco nel tratto di Pescara cioè quello alla mia destra si paga la strada parco nel tratto di Montesilvano cioè quello alla mia sinistra non si paga nel fine settimana niente di strano ovviamente visto che Pescara e Montesilvano sono due municipalità diverse quindi ciascuna ha il diritto di scegliere se e quanto far pagare il parcheggio qui a fare da rubicone un po' sono le piscine e le naadi e comunque il tratto che va da via Arno via Livenza fino appunto all'inizio di Montesilvano però lo scenario è particolare qui c'è il parcheggio è un retrostante le naadi gratuito questa è tutta la strada parco nel tratto di Montesilvano il cui parcheggio è considerato gratuito nel fine settimana per le automobili ma come vedete non ce n'è nemmeno una cosa diversa invece da Pescara dove la strada parco nel fine settimana messa a disposizione dalla giunta comunale che quest'anno ha anche deciso di abbassare il prezzo perché la sosta prima era 3 euro fino all'anno scorso quest'anno è di 2 e insomma dicevo questo tratto viene molto utilizzato così utilizzato che i cittadini addirittura sono praticamente contenti e persino soddisfatti dei 2 euro chiesti perché dicono per tutta una giornata 2 euro alla fine non è una grande spesa tutti tranne qualcuno i 2 euro che si pagano qui è tanto è poco è giusto? l'anno scorso si pagava di più 3 è 3 e io abito qui vorrei non pagare veramente però va bene certo per un residente lo capisco sì va bene è così mi può dire solo se ritiene che sia un prezzo corretto quello dei 2 euro? secondo me sì sì tutta la giornata sì anche perché evitiamo multe evitiamo di girare a vuoto per ore grazie giusto 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 lo sai che a Montesilvano il parcheggio non si paga? eh amen cosa trova il prezzo di questo parcheggio? esagerate 2 euro appunto l'anno scorso era 3 però invece ad essere 1 1 euro? 1 euro abbiamo parcheggiato altrimenti non avremmo parcheggiato eh se era 3 euro? l'anno scorso non abbiamo mai parcheggiato sulla strada parco perché era eccessivo quest'anno va boh 2 euro già insomma è un'altra storia però una giornata ma lo sapete che a Montesilvano invece è gratis? appunto allora ce la devo andare a mettere lei a Montesilvano è un'altra storia che sa nonutt complain